Se l'autonomia possa portare a miglioramenti, ma questo non sono in grado di dirlo, posso dire che sicuramente lo standard è già elevato e penso che al di là delle forme che si possono scegliere di governo, quello che è importante è cercare di essere sempre tutti, ognuno di noi, più vicino alla corretta applicazione delle regole. L'autonomia del Veneto è materia strettamente politica e amministrativa, ma alla portata della riforma è tale che anche il comandante regionale della Guardia di Finanza del Veneto, il generale di divisione Riccardo Rapanotti, è stato chiamato ad un commento durante l'esposizione dell'ultimo bilancio operativo delle Fiamme Gialle. In Veneto l'evasione fiscale si attesta al 9%. Rispetto a quello che è il prodotto interno lordo, quindi la produzione di reddito del Veneto, la percentuale di evasione, pur essendo consistente, è sicuramente inferiore a quello che potrebbe essere, per cui il Veneto, diciamo, sotto questo profilo è una regione abbastanza virtuosa. Nel 2023, nei primi cinque mesi del 2024, sono state eseguite circa 4.400 indagini, sono stati scoperti 1.206 evasori totali e 5.559 lavoratori in nero. Ci sono state 1.911 denunce per reati tributari e 28 arresti. A Venezia, di fronte al comando regionale, si celebrano i 250 anni della Guardia di Finanza e proprio nel capoluogo regionale si registrano le prime avvisaglie di un fenomeno inquietante. Ci sono stati segnalati alcuni episodi di tentativi di estorsione, non violenti, ma in qualche caso ci hanno segnalato motivi di allarme. Rapanotti commenta anche il proliferare da San Marco a Piazzale Roma di una sovraofferta commerciale di quello che lo stesso comune di Venezia ha definito pacottiglia. Una questione un po' di immagine, è ovvio che il turista magari sia contento di comprare quella maschera, quel piccolo souvenir, però non sa che con gli stessi soldi potrebbe andare in una bottega artigiana e comprare un prodotto certificato che valorizzi ancora di più la funzione economica di questa area. Grazie. 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 Grazie.